Un'italiana di 25 anni, Deborah Rastelli, è stata trovata morta nella sua abitazione di Glasgow. Originaria di Cossato, nel Biellese, da circa un anno si era trasferita in Scozia, dove aveva trovato lavoro come assistente sanitaria per imparare la lingua. A dare l'allarme è stata la coinquilina che al rientro a casa l'ha trovata morta. I genitori, avvertiti in mattinata, sono partiti per Glasgow. Le forze dell'ordine non hanno fornito loro dettagli sulle cause del decesso, che non sono ancora note. Secondo quanto appreso, sul corpo della ragazza e nell'appartamento non sono state trovate tracce di violenza. Diplomata all'Istituto Tecnico Industriale di Biella, la giovane, che avrebbe compiuto 26 anni tra qualche giorno, voleva mettere da parte i soldi per proseguire gli studi. Da due giorni la famiglia non aveva sue notizie.